Buongiorno, sono Alessandro Taramelli, Sales & Marketing Manager di T-Link per l'Italia. Oggi all'Open Day italiano presentiamo la nuova gamma di router AC, sia con modem ADSL, sia per linee in fibra ottica e quindi fasto e valperatore più famoso. Tutti i router che presentiamo oggi vanno sotto il cappello del cloud, quindi gestibili attraverso applicazioni sia iOS che Android. Sono router più gestibili sia dall'interno della propria rete sia dall'esterno. La cosa interessante è che ovviamente il nuovo standard che verrà rettificato all'inizio dell'anno prossimo permette la navigazione contemporanea sulla doppia larghezza di BAN, 2,4 e 5 GHz, il 2,4 GHz un pochino più congestionato. Il 5 GHz è sicuramente più adatto per un flusso sia streaming, magari multimediale, più consumer, senza scatti e senza ritardi nella visualizzazione dei contenuti o nell'audio. Mentre per quanto riguarda la parte un pochino più considerata business o small office, questa possibilità di lavorare tranquillamente di scambiarsi file anche di grandi dimensioni all'interno della rete attraverso una rete wireless non più cablata come magari era necessario prima di questo standard. I router che andiamo a presentare portano notevoli benefici dal punto di vista sia della trasmissione radio sia dal punto di vista della larghezza di banda, quindi fruibili sia in casa, lo ripeto, sia all'interno di uffici e possono tranquillamente sostituire o comunque essere integrati all'interno di una rete cablata di, diciamo, ottime performance decisamente un salto di qualità notevole rispetto al precedente standard, cioè l'N2C.